Vedo che il debito pubblico aumenta, io vedo che non cambia niente, che mia mamma prende 400 euro a 70 anni, devo tenere a lavorare con me per dargli, pago i contributi per mia mamma per vedere di fargli prendere un po' di più, ma io non posso permettergli di mantenere mia mamma, mia figlia, mia moglie, mia moglie alle scuole materne prende 1050 euro, 1050 euro, se io col mio reddito potrei mantenere mia famiglia, ma se me le prende tutto quel ladro che si chiama Stato, io ho già una bimba, non ne voglio due che si chiami Italia, quella bimba più grande, quella lì è una troia, mi sono già rotto le palle, ma io mi sono rotto le palle, io sarei un potenziale terrorista, la loro assicurazione è mia figlia, ho ancora la testa, ho ancora la testa e non lo faccio, ma io sono un potenziale terrorista, purtroppo, ho le palle così, non ne posso più, io mi dicono se riesci a fare del nero, ma io non riesco a fare del nero, io non lo voglio neanche fare, non è logica, in uno Stato Democratico non è logico che uno debba accampare con del nero, e questo è il discorso, io voglio pagare le tasse ma voglio avere dei diritti, voglio che ci sia tutto, c'è anche qualche servizio oltre a quello che paghi, qualcosa, scusa se ti do del tutto, però fai bene, ti ho visto là e ho apprezzato quel discorso che hai fatto, quella merda, io poi ti risento parlare e mi viene, cioè, dici come cavolo fai a risolvere le cose, quando tu gli parli, gli dici perché stiamo dando i soldi alla TAB, perché stiamo dando i soldi agli F35, perché stiamo dando, perché non togliamo le province, perché non facciamo qualcosa che fa, adesso forse vedremo, e poi votano no, e votano no a tutti, no no lo so, lo so, stanno insieme, diciamo che più scego e più mi viene nervoso, stanno facendo in modo che... Dici anni più stiamo là dentro, più c'è un attaccio isterico, un attaccio di rimbocci elettorali dal 2017, un attaccio di rimbocci elettorali, allora tutto il decreto del fare che loro hanno, che abbiamo fatto, che era l'inizio della legislatura, è stata approvata tutta una serie di normative, non ci sono i decreti attuativi che vuol dire tu fai la legge, ma finché non fai il decreto attuativo, quella legge non è vero, quindi loro fanno una molle di cose, se ne vendono negativamente, allora poi non fanno il decreto attuativo, quindi non applicano nulla di quello che stanno facendo, è una schizofrenia completa, quando noi diciamo che si devono andare tutti a casa, non è uno slogan, è così, devono andare a casa, si devono togliere i dalle balle, ma io non dico che non ci debba essere l'opposizione, ci deve essere, per l'amor Dio, ma deve essere, c'è anche un po' di testa là dentro, ci deve essere un po' di coerenza, la coerenza, no nel senso che cambiamo tutto, che ci siano destra, sinistra, che ci sia, esatto, ma io non voglio una dittatura Movimento 5 Stelle, io voglio confrontarmi anche con altre idee e con altre proposte, ma che siano proposte concrete e che la gente abbia voglia di mettere in atto, poi puoi darci pure che se io e te discutiamo se è meglio fare la scuola, è meglio fare la casa, esce fuori che è meglio fare le case, e io mi metto da parte, ma facciamo una delle due cose, invece così non fanno niente, non si fa assolutamente niente, dobbiamo servire nessuna. Grazie, buon lavoro.